Stamattina c'è stato questo incontro con il Ministro Lezzi, avete discusso di Bagnoli, che cosa è venuto fuori? Abbiamo avuto un incontro di 30 minuti in prefettura molto costruttivo, molto utile, molto proficuo, le basi per una positiva cooperazione su tutti i tavoli di competenza della Ministra del Sud, in particolare l'oggetto è stato Bagnoli, abbiamo affrontato i punti nevralgici, strategici e decisivi di Bagnoli, si è convenuto di lavorare insieme in stretta sinergia e poi abbiamo affrontato come titoli altri temi importanti, inizi di settimana farò avere un quadro dettagliato di tutti i dossier in corso nella città di Napoli, credo che ci sono le prospettive migliori per una positiva cooperazione istituzionale con Barbara Lezzi, con il suo di Castero e quindi con il Governo. Una delle priorità per Bagnoli è la bonifica, lei più volte in passato ha ricordato gli obblighi, i doveri del Governo su questo o ha avuto delle rassicurazioni? Poi sentite la Ministra che farà la conferenza stampa oggi pomeriggio, io chiaramente ho sottolineato tra le varie cose l'assoluta necessità che in legge di bilancio si trovi la copertura per la bonifica integrale, quello è un obiettivo strategico e non posso nemmeno immaginare come ipotesi astratta che il Governo non finanzi la bonifica integrale di Bagnoli, quindi poi sui temi degli impegni del Governo chiedete al Governo, io sono soddisfatto dell'incontro di stamattina. Grazie. Grazie Sindaco.